Avvicinatevi per piacere, ho qualche cosa da dirvi. Signore e signori, io sono Boris Karloff. Sono qui per presentarvi tre brevi racconti del terrore e del soprannaturale. Spero che non siate venuti al cinema da soli. Come vi renderete conto vedendo questo film? Gli spiriti, i vampiri, sono presenti ovunque. Esattamente come le altre, non ha nemmeno una goccia di sangue. Eppure non abbiamo riscontrate ferite di alcun genere. Si dice che fosse un burtalac. All'inizio è un burtalac.